Diciamo che è stato difficile uscire, ma non perché David ha fatto fatica anche durante. Sapete tutto che non è stato facile per me, però dopo tutti questi mesi, lui è venuto a Brescia, è venuto domenica. Abbiamo fatto una cena insieme, siamo stati tre ore insieme. Insomma, all'inizio mi ha visto proprio messa male, però dopo ha cercato di tenermi a mio agio, ho fatto di tutto per tenermi tranquilla. Abbiamo fatto la prima mezz'ora di panico, però poi piano piano... Sì, ci siamo anche persi, non riuscivo più a trovare il ristorante. Siamo finiti in casa di altre persone. Siamo finiti in un condominio dove lui di corsa è uscito dalla mia macchina per aprire il cancello. Insomma, è andata... Vabbè, però dopo tanti mesi comunque sei riuscita un attimino a... Sì, sono riuscita a uscire e dopo poco sono tranquillizzata, diciamo.